Sarà l'imprenditore Donato di Campli a vestire i panni del Mastro Giurato edizione 2023, la grande rievocazione storica che ripropone le fiere medievali che si svolgevano nella città di Lanciano, richiamando mercanti da ogni dove. L'investitura con il corteo storico si terrà il 3 settembre, a conclusione di una settimana ricca di eventi e momenti culturali annunciati dal presidente dell'associazione, Mario Lafarciola. Il Mastro Giurato per tutto il periodo delle fiere, con la sua scorta, era l'unico che potesse girare armato ed aveva il potere di arrestare immediatamente chiunque recasse disturbo agli ospiti. Tra i suoi compiti principali, ricordiamo, quelli di buona accoglienza degli ospiti, del controllo rigoroso di pesi e misure e l'amministrazione della giustizia civile e penale. Di Campli, avvocato, presidente attuale dell'Ente Fiera, imprenditore e proprietario del gruppo Supporter, con un prestigioso passato di procuratore sportivo di grandi calciatori, si è emozionato, visto l'attaccamento alla sua città. È un onore e un piacere avere questa carica. Ho ringraziato tutta l'associazione del Mastro Giurato, il presidente Massimina Spinelli. Per me è una grande emozione. Spero di poter assolvere a questo compito nel migliore dei modi e ringrazio tutti. Massimina Spinelli, moglie del compianto Danilo Marfisi, ha auspicato che Di Campli possa far in modo di riavvicinare più giovani alla manifestazione storica. Io credo che sia la chiave di volta di un successo di ogni persona. Puntare sui ragazzi è fondamentale. Anch'io nella mia azienda ho tantissimi ragazzi che lavorano con me, che vanno dai 18 ai 25 anni. E credo che anche il gruppo che rappresento sia un punto di aggregazione di tanti ragazzi, che nei weekend e durante l'estate si ritrovano nei nostri territori. Io credo molto in questa mission per i giovani e cerco di applicarla tutti i giorni. Mi fa piacere che anche Massimina l'abbia notato e mi abbia premiato fondamentalmente.